C'è un uomo che si è contato una smart appena se la catta la fanno proprio questa macchina e vediamo che ci succede l'agenziale persona io mi sono catta da smart l'ho comprata d'occasione spero solo per qualcuno ma nella ragazza che non resta mezz'anni l'agenziale dove abbiamo fatto con la gaffa non c'è il tiro con un bastanti metto metto qua in alto al letto tanto per la garanzia e non rimane pesa l'amico l'agenziale cato di vino non funziona un accentino tanto non devo fumare poco faccio riparare e poi c'è la garanzia e non rimane pesa la fine l'agenziale cato di monte metto la pasta sotto la volta sto nemmeno uno spiglietto e sto nemmeno un progetto ma sono tutta questa via che ha smanno in garanzia l'agenziale di mare nello sto nemmeno uno spuglietto che è scopo entro un cuore sto con l'amore del cuore ma nella notte che la garanzia e torno sempre a la garanzia da un'agenziale fuori porta sto volando a dare la porta sto infilando a dare la tesota ecco un po' con un bacca a porta si non ferma la polizia oi! ci dico che te nemmeno la garanzia ad uscita per la mia sono le nostre lezze mare di nuovo ferma la strada marta vai più forte di un bocarte sto filo lì da galeria è molto ferma la garanzia ad uscita per la nuova ma che ha spattato nel tuo muro che è scopo ad un'altra parte e se sta picciando a dare la mano una cartonia e non voglio la garanzia grazie